Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Traffico regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della regione toscana. Sulla statale due cassi a tratto chiuso per lavori di manutenzione nel tratto del ponte del Palio tra Radicofani e Abbadia San Salvatore. In A1 fare attenzione per un veicolo in panne tra Arezzo e Valdarno in direzione Firenze, si tratta di un camion. Per quanto riguarda la viabilità cittadina, a Firenze per i lavori della linea 3 della tramvia, fino a sabato restringimento di carreggiata per uno scavo in Viale Strozzi all'altezza di Viale Lavagnini per l'impatto dell'acquedotto. Ci vediamo con il meteo e l'amma prevede per oggi cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio modesti andensamenti in Appennino, temperature stazionarie. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!